Lamentiamo il mancato pagamento delle mensilità di gennaio, ma oltre a ciò la situazione dell'azienda BTP, che è titolare dell'appalto, è molto drammatica, verso una condizione di crisi finanziaria ormai da tempo e pertanto siamo preoccupati, oltre che per il mancato pagamento della mensilità di gennaio, per il futuro dei nostri lavoratori e anche al futuro dell'opera, opera fondamentale per l'Asse Viario Umbria Marche. Pertanto spieghiamo un incontro anche con gli amministratori e tutti gli enti preposti per poter garantire una risoluzione immediata della problematica. Il problema è che in quest'opera, ad oggi, al di là del fatto del pagamento dello stipendio che non si sa quando verrà, è proprio il proseguo del cantiere, il continuo del cantiere che è a rischio. Per questo Cigiello e Cisluil chiedono e sollecitano nuovamente un tavolo congiunto fatto da Quadrilatero che coinvolga DIRPA, il contrenente generale, e allo stesso tempo la Baldassini-Tognozzi-Pontello, subaffidataria al 100% dell'opera. Risolvere le problematiche che oggi sussistono su questo cantiere, che sono sì di natura aziendale perché nascono tutte dalla situazione economica e finanziaria della Baldassini, dal suo commissariamento fatto dal Tribunale di Prato, l'individuazione dell'amministratore giudiziale Inzitari Bruno. A lui rivolgiamo la nostra richiesta, la richiesta di avere delle informazioni certe riguardo all'occupazione, riguardo al pagamento dello stipendio e oggi scioperiamo noi dipendenti della Baldassini, ma domani non esiteremo, se non avremo risposte e certezze dall'amministratore delegato dal Tribunale di Prato, non esiteremo a coinvolgere anche tutte le aziende in subappalto in questo cantiere. Gli scenari purtroppo sono un po' nebulosi perché stiamo vivendo una situazione in cui questa azienda che ha preso l'appalto qui dell'opera dovrebbe terminare i lavori entro il 2013, massimo il 2014, già i termini si sono dilatati, per difficoltà economiche non riesce a pagare i stipendi e quindi si sta bloccando tutto il cantiere irreparabilmente perché se si blocca qui tutto il lavoro bisogna rifare l'appalto e quindi siamo in una situazione di difficoltà, difficoltà che per noi è ancora più grave dal fatto che siccome quest'opera è interamente finanziata, in Italia adesso abbiamo poche opere in cui si sta lavorando perché sappiamo i finanziamenti pubblici che sono stati ridotti almeno, quest'opera è interamente finanziata e non si riesce a lavorare, quindi è chiaro che ci troviamo in una situazione molto delicata che speriamo si possa risolvere nei prossimi 60 giorni che oramai sono rimasti anche 50 perché c'è un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Prato che se entro questi 50 giorni oramai rimasti non riesce a vendere una parte consistente dell'azienda e quindi ricavare dei soldi, è chiaro che l'azienda è destinata a morire quindi con tutte le conseguenze che ne verranno in futuro.